Ma crediamo che ci siamo espressi in questo senso che le espressioni di democrazia e di rivendicazione di libertà e di autonomia nel nostro paese in termini di dibattito siano interessanti. Ecco, noi vediamo da una cultura secolare di autonomia e un'autonomia recente e moderna che vogliamo rilanciare. Crediamo che sugli insegnamenti di Shanouma e anche di Bruno Salvadori, da cui tanti oggi in Italia si ispirano, un'Italia federale con maggiori poteri alle regioni possa essere una soluzione. Crediamo che aver riaperto questo dibattito in termini di decentramento, di valorizzazione delle realtà regionali e delle nostre peculiarità speciali di ogni territorio, soprattutto di alcuni territori che hanno rivendicato, sia un apporto interessante al dibattito politico nazionale.